Il meraviglioso cielo di questo mese in cui riprendono le attività dopo la pausa estiva ci regala un'interessante apparizione di Mercurio la mattina, un'eclissi parziale di superluna e speriamo anche in un assaggio di cometa. Questo video fa parte di una collaborazione tra l'Omino delle Stelle e l'Unione Astrofili Italiani all'interno del progetto Occhi al Cielo, un magazine adatto per chiunque voglia avvicinarsi all'astronomia osservativa. Trovate il link in descrizione. Benvenute e benvenuti, cari osservatrici e cari osservatori del cielo. L'alba del primo dì di settembre ci offre un cielo carico di stelle pianeti. Cominciamo da quelle che gli antichi greci chiamavano stelle fisse. In particolare facciamo un giro rapido rapido tra le stelle che vediamo formare verso sud est l'ormai noto esagono invernale che con le sue costellazioni dona splendore a queste mattine settembrine. Sirio nel cane maggiore è la più vicina all'orizzonte e la individuiamo facilmente sotto i cieli limpidi verso sud est. Procedendo in senso orario, poco più in alto incontriamo Procione nella piccolissima costellazione del cane minore. Allontanandoci ancora di più dall'orizzonte c'è Polluce che insieme a Castore disegnano le teste dei gemelli, mentre alta alta in cielo vediamo la splendente cappella nell'auriga. Muovendoci verso destra, più in basso di cappella, notiamo Aldebaran che sberluccica nel toro, costellazione sotto la quale si trova Orione, la cui stella più brillante è Rigel, che individuiamo facilmente sotto la cintura del prode cacciatore. All'interno di questo lucente quadretto possiamo incontrare gli astri che vagabondi passeggiano tra le stelle. Noi li chiamiamo pianeti, mentre gli antichi greci le chiamavano stelle erranti. Nel toro zodiacale, sulla sinistra di Aldebaran, c'è il luminosissimo Giove, facile da identificare perché è l'astro più brillante di quella zona di cielo, più brillante delle stelle di cui abbiamo parlato poc'anzi. Sotto Giove, a sinistra, invece c'è il pianeta Marte. Anche lui facile da riconoscere, non tanto per la sua luminosità, che non è maestosa come quella di Giove, ma per il suo caratteristico colore rosso. Ora, dirigendo lo sguardo verso l'orizzonte circa in direzione est, becchiamo un piccolissimo falcetto di luna che delicatamente si sta alzando dalle prime luci del nuovo dì. Non molto lontano da lei, in basso a destra, si può notare, seppur con qualche difficoltà poché è immerso nel crepuscolo, il pianeta Mercurio. Ma non finisce qui lo spettacolo meraviglioso che ci dona questo cielo settembrino, perché guardando tra ovest e sud-ovest vediamo brillare il nostro caro Saturno, che, chi segue il canale sa già, ci fa compagnia da tempo la mattina. Insomma, carissimi e carissime, queste albe ci regalano la possibilità di vedere ben quattro dei cinque pianeti osservabili a occhio nudo, alleviando così un pochino la fatica di chi come me non ha dore alzarsi presto. E per finire, se volgiamo lo sguardo più a destra, circa verso nord-ovest, notiamo il triangolo estivo mentre si tuffa sotto l'orizzonte. Triangolo che la sera ci fa compagnia già bello alto in cielo dopo il tramonto del sole tra est e sud-est, direzione verso la quale dobbiamo guardare, se vogliamo vedere, anche il brillante Saturno, che oramai è visibile al tramonto. Verso ovest, quasi a metà altezza, si nota Arturo, più basso sull'orizzonte di quanto lo osservavamo il mese precedente. Ancora più prossimo alla linea che separa il ciel dalla Terra c'è Venere, molto difficile da vedere, ma se pazienterete ancora un po' riusciremo ad ammirarlo meglio nei mesi successivi. Poc'anzi abbiamo detto che la mattina del primo settembre una luna piccina piccina sorgerà poco prima del sole, evento questo che ci avverte che prossimamente ci sarà il 9 lunio, che in effetti accadrà intorno alle 4 del 3 settembre. E mentre Selene ci saluta, Mercurio resta però visibile all'alba, anzi, raggiunge il suo momento migliore il 5 settembre, quando lo vedremo quasi in direzione est a più di 5 gradi dall'orizzonte, tre quarti d'ora prima del sorgere della nostra stella. Questi sono i giorni migliori per cercare di catturarlo, perché proprio il 5 sarà la massima elongazione ovest, alla massima distanza apparente dal sole di questa apparizione settembrina. Ma non finisce qui, perché il giorno dopo, il 6, lo potremo ammirare alla massima altezza sull'orizzonte e in dicotomia. Se avete a disposizione un telescopio osservando il pianeta, noteremo che è dicotomico, cioè diviso in due, o meglio, illuminato per metà. Sì, i pianeti interni, Mercurio e Venere, hanno le fasi. Insomma, il 5 e il 6 sono i giorni ottimali per osservare Mercurio all'alba, avendo a disposizione orizzonti liberi da ostacoli e cieli limpidi. Poi, nei 10 giorni successivi, vedremo il pianeta lestamente diminuire la sua altezza sull'orizzonte, fino a sparire alla nostra vista. Domenica 8 settembre, alle 6 circa della mattina, Saturno si troverà in opposizione al sole. Cosa vuol dire? Che visto dalla Terra sarà dalla parte opposta alla nostra stella. In pratica, questo significa che lo vedremo sorgere quando il sole tramonta e tramontare quando Elio sorge. Di conseguenza, potremo, in linea teorica, osservarlo per tutta la notte. Bellissimo, ma ricordatevi sempre che il momento ideale per osservare un corpo celeste con uno strumento è quando si trova vicino al meridiano, per capirci quando passa in direzione sud. L'8 settembre, Saturno culminerà, cioè passerà per il meridiano, intorno alla mezzanotte. La sera di martedì 10 settembre, guardando tra sud e sud-ovest, vedremo una bella luna prossima al primo quarto e vicina ad Antares, che è quella stella rossiccia che vediamo sulla destra del nostro satellite. Satellite che raggiungerà effettivamente la dicotomia la mattina dell'11 settembre verso le 8. Giorno dopo giorno, costellazione zodiacale dopo costellazione zodiacale, Selene raggiunge Saturno il 17. Noi vedremo l'avvicinamento la mattina, prima che due astri tramontino. Ritorneremo a scorgerli la sera dello stesso giorno, quando oramai si stanno allontanando. Insieme ci condurranno nel giorno della luna. L'ho chiamato così perché il 18 settembre il nostro satellite sarà al plenilunio, raggiungerà il perigeo e ci sarà una piccola eclissi parziale di luna. Ma andiamo per ordine. Il primo appuntamento è di quelli per veri appassionati. La mattina di mercoledì 18 verso le 4, guardando tra ovest e sud-ovest, scorgeremo facilmente la luna bella luminosa. Sotto di lei c'è Saturno. Ora, osservando Selene con attenzione nell'ora e mezza successiva, noteremo gradualmente apparire a destra la tondeggiante ombra della Terra. È l'eclissi parziale di fine estate. La fase di parzialità inizierà alle 4.13, raggiungerà il massimo alle 4.44 e terminerà alle 5.15 circa. Non aspettatevi grandi cose. È una piccolissima eclissi. Infatti verrà oscurato solo il 3,5% del disco lunare. Ma se a quell'ora siete già in piedi, sarà comunque un bello spettacolo da ammirare. E mentre la luna viene eclissata, alle 4.34 avviene anche il plenilunio. Una fase di pienezza molto interessante perché nel pomeriggio dal 18 verso le 15.30 la luna raggiungerà anche il perigeo, trovandosi a 357.300 km da noi. Chi segue questo canale ormai saprà che la vicinanza temporale di questi due eventi, plenilunio e perigeo, fanno sì che il nostro satellite appaia un po' più grande e luminoso del solito. È quell'evento che popolarmente viene chiamato Superluna, anche se per gli astronomi non è un vero e proprio evento. Se però non ve la sentite di alzarvi così presto per guardare l'eclissi parziale di Superluna, potrete comunque ammirare comodamente il nostro luccicante satellite mentre sorge in tutto il suo fascino, sia il crepuscolo della sera del 17 che del 18. E dopo il plenilunio sappiamo che Selene comincia a sorgere sempre più tardi la sera e a tramontare sempre più tardi la mattina, rendendosi così meglio visibile all'alba. Il 22 la luna incontra l'ammasso stellare delle Pleiadi, un bel raggruppamento di stelle che in questo periodo vediamo alto in cielo verso sud ovest prima del sorgere del sole. Una volta identificata Selene, Messia 45, che è uno dei nomi delle Pleiadi, si trova facilmente cercando più in alto a sinistra del nostro satellite un gruppetto di stelle che ricorda un piccolissimo carro. Ne paraggi c'è anche Urano, che si trova più in basso a sinistra della luna gibbosa calante. Osservando quella porzione di cielo con un binocolo, meglio ancora quando le tenebre dettano legge in cielo, potremmo godere della bellezza di questo piacevole quadretto celeste formato dalla luna, le Pleiadi e Urano. Stesso giorno ma alle 14.44 cade l'equinozio di settembre che nel nostro emisfero coincide con l'arrivo dell'autunno astronomico. L'equinozio di settembre non è un giorno ma è un istante. È il momento in cui il centro del sole che si muove durante l'anno lungo l'eclittica incontra l'equatore celeste, passando dall'emisfero boreale celeste all'emisfero australe celeste. Dall'equinozio di settembre fino all'equinozio di marzo, nel nostro emisfero, il sole rimarrà sempre sotto l'equatore celeste. Nell'emisfero australe, viceversa, il 22 ha inizio la primavera astronomica e il sole apparirà sopra l'equatore celeste fino all'equinozio successivo. La luna nel toro la mattina del 24 passa vicino ad Elnat, la stella che identifica la punta del corno settentrionale del bovino celeste. In basso della luna c'è il luminoso Giove e più a sinistra Marte, che vediamo sempre più lontano dal pianeta che porta il nome del re dell'Olimpo, ormai dentro la costellazione dei gemelli. La sera del 24, verso le 21, Selene raggiunge l'ultimo quarto, passando così da Gibosa Calante a Calante, fase quest'ultima durante la quale la mattina del 25 incontra Marte. Selene sarà sopra il pianeta rosso, entrambi saranno dentro i confini dei gemelli, costellazione nella quale la vedremo anche la mattina successiva, quando incontrerà la stella Polluce. Domenico 29, durante il crepuscolo del mattino, ammireremo un piccolo falcetto di luna alzarsi su su in cielo in compagnia di una stella abbastanza brillante, posizionata sotto di lei. È Regolo, la stella più luminosa del leone. E mentre la luna si avvicina alla congiunzione col sole, l'ultima settimana di settembre, guardando verso est tre quarti d'ora prima dell'alba, potremo tentare di osservare una cometa. In questo periodo sarà davvero bassa e immersa tra le luci del crepuscolo. Saranno favorite nell'osservazione le popolazioni dell'emisfero sud. La cometa si chiama C2023A3 Tsuxinshan Atlas, almeno spero si pronunci così, e il 27 settembre raggiunge il Perielio, la minima distanza dalla nostra stella, dopodiché tornerà ad allontanarsi dal sole. Ma non è finita qui, perché dopo questa difficile apparizione mattutina, la cometa sparirà per alcuni giorni dalla nostra vista, per tornare visibile la sera verso metà ottobre. Ma di questo ne parleremo nel prossimo video, tenendo sempre in mente che le comete sono come i gatti, hanno la coda e fanno esattamente quello che vogliono. Io sono Luca, se vuoi supportare questo progetto di esplorazione delle meraviglie del cielo metti un bel mi piace, condividilo con gli amici e se non l'hai ancora fatto iscriviti a questo canale. E ora non mi resta che augurarti come sempre buonanotte e buone stelle.